GORNITI! POTENZA DEGLI ELEMENTI! FURIA DEL COSMO! COMBATTI! Orion! La freccia del cosmo! Dobbiamo muoverci in fretta! Ci sono! Orion, lanciami! Cosa? Devi scagliare me come una freccia! Dovremmo avere un tempismo perfetto! Orion, no! Così è troppo rischioso! Ora! Lo prendo in prestito un secondo per fare una cosa! TROFICA COSMICA! TROFICA COSMICA! GUARBIANO! LAMA ABBAGLIANTE! Nord, dì al tuo guardiano di consegnarmi i frammenti, prima che il santuario ci crolli addosso! Riff! Consegnarli? Dovrai obbligarmi! Non mi lasci altra scelta! A FONDO SOLARE! A FONDO SOLARE! IA! Il potere del cuore del titano rappresenta un pericolo per chiunque lo custodisca, ma vedo un grande potere in te! Ora è tempo di ricongiungere i quattro frammenti! Già! Conterrò il potere dei frammenti di magma, così potrete riportarli indietro al Grande Tempio! Trovate gli altri frammenti, guardiani! Ma fate attenzione al loro potere! IA! 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 IA!